La campagna è la prima regione d'Italia per vaccinazioni del personale scolastico, docente e non docente. Adesso dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per vaccinare gli studenti. Ennesimo appello del governatore della campagna Vincenzo De Luca ad una settimana dall'avvio dell'anno scolastico. Credo con grande senso di responsabilità, abbiamo fatto una riunione importante qualche giorno fa con i dirigenti scolastici, abbiamo un elemento di grande tranquillità perché la campagna è la regione più avanzata d'Italia per la vaccinazione del personale scolastico, docente e non docente, ma dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per vaccinare gli studenti. Come si fa a non capire che vaccinarsi tutti serve a riprenderci la vita e a tenere aperta l'economia del nostro paese, prosegue De Luca, per evitare di dover richiudere fra due mesi bar, ristorante, fabbriche, attività commerciali. Abbiamo ascoltato ieri l'appello appassionato del Presidente della Repubblica, ma come si fa a non capire che vaccinarsi tutti serve a riprenderci la vita come diciamo noi e a tenere aperta l'economia del nostro paese per evitare di dover chiudere fra due mesi bar, ristoranti, fabbriche, attività commerciali. Il Governatore si appella al senso di responsabilità di tutti, soprattutto per far sì che la scuola prosegua in presenza. Se immunizziamo anche la popolazione studentesca, conclude il Governatore, allora davvero potremo avere un anno scolastico in grande serenità. Chiedo anche a voi di aiutarci in una campagna di stimolo alla vaccinazione, perché se vacciniamo anche la popolazione studentesca, allora davvero potremo avere un anno scolastico in grande serenità. Cominciamo a fine mese, cominciamo in presenza, ma per continuare la scuola in presenza dobbiamo essere responsabili.